Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di poliporus, un importante rimedio della tradizione cinese utilizzato primariamente come diuretico. Poliporus humbellatus, in cinese chuling o zuling, è uno dei diuretici più importanti della tradizione. È un fungo, tradizionalmente si utilizza solo il micelio. Nei rimedio attuali invece troviamo sia il micelio che il corpo fruttifero. Poliporus appartiene alla famiglia delle poliporacee e cresce su radici e tronchi di faggi, aceri e querce. Secondo la farmacologia tradizionale cinese, poliporus appartiene ai medicamenta diuretica extillansiaumoris, il comportamento termico e neutrale, il sapore dolce, le orbite di riferimento sono renale e vescica urinaria, gli effetti descritti sono diuretico, elimina l'umidità, disperde le perdite vaginali. L'impiego di poliporus nella moderna farmacologia procede dall'analisi chimica delle componenti e dagli studi clinici. Poliporus contiene numerose sostanze interessanti, l'ergosterina, l'argone, l'acido alfa-idrossitetra-eicosanoico, la biotina, i polisaccaridi e polipatidi, calcio-potassio-ferro e zinco, le acquaporine, i beta-glucani, i terpenoidi, il manitolo, gli steroli, l'antraginoni e i nucleosidi. Le indicazioni di poliporus umbellata, secondo una termologia più moderna, sono i disturbi dei liquidi, dell'escrezione, l'oliguria, la disuria, la ritenzione idrica, la diarrea, le urine scure e torbide, le perdite vaginali, gli edemi infiammatori, è di supporto alle malattie emolinfo-proliferative, è di supporto nel carcinoma della vescica e un antiossidante rinforza pelli, capelli e unghie. Le parole chiave dunque per ricordare poliporus è che è un diuretico nefroprotettivo, antinfiammatorio e immunostimolante. Bene, l'uso di poliporus come medicinale deve reservare sempre a una corretta relazione medico-paziente, il presente video è informativo e non vuole favorire l'autoprescrizione. Con questo siamo giunti al termine, vi ringrazio della visione, vi prego di iscrivervi al canale, biffare la campanella, questo vi consentirà di essere avvertiti riguardo la pubblicazione di nuovi video sul canale. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!